A Leporano sono in corso le riprese di Diabolica. Nel B&B Mare e Luna del Comune Tarantino si girano le scene del thriller che vede protagonista Catherine Kelly Lang, blindatissima, la Brooke di Beautiful, assieme a Franco Nero e Nicoletta Romanoff. Nel cast anche il pugliese Gian Claudio Caretta, selezionato però in un provino a Los Angeles, e Lucia Ceracchi. Gli attori recitano in inglese, il film verrà poi doppiato in italiano per il mercato nazionale. Diabolica uscirà nelle sale cinematografiche a fine anno ed è già prevista la partecipazione a numerosi festivali internazionali.